Il primo step della raccolta differenziata, il riposto giusto, è stato illustrato questa mattina in municipio alla presenza del sindaco Enzo Caragliano, dell'assessore all'ambiente Paolo Emanuele e dell'ingegnere Daniele Archirafi in rappresentanza della Tech Servizi. In questa prima fase operativa sono coinvolte le cosiddette utenze non domestiche, ovvero le attività produttive presenti sul territorio, che sono circa 270. La distribuzione dei kit, costituita da 5 bidoni da 240 litri, uno per ogni tipologia di rifiuto da differenziare, è in corso di svolgimento. Questa mattina una prima consegna inaugurale è stata effettuata in un bar del centro storico Ripostese, alla presenza del sindaco Caragliano e dell'assessore Emanuele. Alle utenze non domestiche è stato consegnato un calendario per la raccolta, che si svolgerà tutti i giorni della settimana, compresa la domenica, previo contatto con il responsabile del servizio ecologico. L'eco-calendario prevede per il lunedì il ritiro dei rifiuti non riciclabili e il cartone da esporre ripiegato e accatastato davanti alle attività commerciali. Il martedì umide imballaggi e pellicola di plastica, alluminio e acciaio. Mercoledì carta vetro e cartone, giovedì umido e cartone, venerdì non riciclabile, sabato umido vetro e cartone, domenica umido. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire entro le 8 del giorno di ritiro previsto in calendario, davanti alla propria utenza. Sì, è uno delle scommesse che ci siamo andati da inizio, che è tenere la città pulita e potere soprattutto avere un ritorno nell'economia, cioè risparmiare, differenziando. Quindi è un invito ulteriore anche con i cittadini a rispettare quelli che sono i tempi, le giornate e la raccolta. Facendo differenziata sicuramente avremo un ritorno, avremo un ritorno di immagine, di ambiente, che è una città che vive di turismo e quindi deve dare il massimo dello splendido e della sua bellezza. La bellezza si mantiene tenendola pulita. È un primo segnale di inizio vero e proprio di quella che sarà l'attività che poi dovrà caratterizzare tutti i mesi, gli anni a venire, perché ormai non si può più tornare indietro. Questo è il primo passo per guardare al futuro affinché possa essere garantito a noi e alle generazioni future un ambiente più salubre. E' quello che ci auguriamo, come ho già avuto modo di dire, l'amministrazione ovviamente sta mettendo in atto tutte le attività necessarie di iniziare questo servizio. La ditta, dal canto suo, sta prestando i materiali. Adesso l'opera ovviamente più importante spetta al cittadino che dovrà materialmente differenziare e differenziare bene affinché possa ricevere la giusta premialità che gli spetta ma anche affinché il servizio possa andare a buon fine. Questa fase la affronteremo con lo spirito che ovviamente caratterizzerà anche questo mese, quindi con una comunicazione che poi ovviamente verrà diretta al cittadino. Ancora non abbiamo organizzato nulla per il cittadino come utente domestico per l'appunto e ci appresteremo a farlo in questo mese. Stiamo aspettando che arrivino le attrezzature necessarie e poi si partirà a zone che ovviamente verranno concordate con l'ufficio di competenza. A partire da oggi inoltre entra nella sua piena operatività l'eco sportello di via Gramsci nel tratto che costeggia la centralissima piazza San Pietro a riposto. Contestualmente entra in funzione anche il numero verde 855 08 11 da contattare in caso di rilevanti produzioni di rifiuti e per concordare apposite modalità di conferimento e ritiro.